Anic E' il pipì da Higuain Ronaldo Sapere ritrovarsi di fronte uno come Cristiano Ronaldo Non deve certo aver fatto dormire sonni tranquilli ai difensori avversari Stefano Giocatore unico nel suo genere dalla media goal Impressionante Prototipo ideale L'attaccante moderno Forte fisicamente, dotato di una tecnica sopraffina Abile nel gioco aereo e con un tiro capace di incendiare la rete Parti Morata Thomas